Io sono sicuramente un atleta da sport individuale. A me piace fare le cose a modo mio. Tu hai un obiettivo in testa, vuol dire stringere i denti e andare avanti. Lo sport è sempre stato visto così da me. C'è uno che vince, uno che perde e io volevo essere il migliore, sempre. Grazie.